Dubbi di formazione? Sempre. Vuol dire che sono tutti pronti, che hanno voglia di mettermi in difficoltà. L'allenamento di oggi sarà un allenamento importante per verificare le condizioni, ma soprattutto il recupero psicofisico. Mentalmente stiamo bene. Ovviamente il discorso di Diamanti è un ragazzo che dall'inizio ha dimostrato grande volontà e quando l'abbiamo chiamato ha sempre risposto molto bene. Dunque, loro sono più giovani, sono imbattuti da 15 partite, fanno più gol e hanno avuto più giorni da recuperare. E quindi? Andiamo a casa. E quindi sarà una grande gioia e soddisfazione affrontare questa grande squadra con la serenità e la convinzione di poter fare la partita. Noi abbiamo in questo momento una grande serenità. E abbiamo anche la volontà di mettere in pratica tutto quello di buono che abbiamo fatto. La sfida è affascinante, proprio per questi numeri e questi appunti che hai preso. Come diceva Daniele, abbiamo solo un'arma. Il discorso che facevamo qualche giorno fa non possiamo tornare indietro. Sarebbe veramente snaturare due anni di lavoro, sarebbe veramente brutto e forse magari immaturo nel momento della verità giocare un calcio diverso. Quindi rischieremo qualcosa ma cercheremo di giocare a calcio.